ok tre priorità del tuo mandato che vorresti portare a termine 1 nuovo aeroporto di lamezia 2 nuovo aeroporto di reggio 3 miglioramento aeroporto di crotone quasi vediamo un po domanda tra le sfide che ti sei posto qual è la più facile e qual è la più difficile da superare la più facile non esiste non sarei qua se ci fossero sfide facili quella più difficile è quella di riportare l'orgoglio per tutti i collaboratori di appartenenza ad un'azienda fondamentale per lo sviluppo di questa regione determinante per lo sviluppo di questa regione ok e quindi l'ultima tre parole per descrivere l'esperienza SACAL sole, cuore e speranza e amore anche speriamo no sfidante sicuramente l'esperienza stimolante entusiasmante queste sono le tre parole ma non sfidante топi non sfidante non sfidante non sfide